Previsioni del tempo per giovedì 3 dicembre su Puglia, Basilicata e Molise. Situazione generale. Giornata soleggiata nel sud-est italiano in attesa dell'avvicinamento di un nuovo fronte temporalesco che raggiungerà a partire dalla sera le nostre regioni con stratificazioni o velature. Prime piogge inottata su Isernia, temperature in ulteriore lieve calo soprattutto inottata, con clima freddo anche in pianura, venti ancora sostenuti di maestrale in attenuazione serale e rotazione da sud-ovest, mari mossi ma con moto ondoso in calo. Vediamo ora le previsioni sulla Puglia. La giornata inizialmente presenterà ampi spazi di sereno, poi l'avvicinamento di un'altra perturbazione causerà un aumento della nuvolosità a partire dalla serata, ove non mancheranno fenomeni temporaleschi sulla Puglia meridionale. Temperature in ulteriore lieve calo soprattutto inottata, con clima freddo anche in pianura. Venti ancora sostenuti di maestrale in attenuazione serale e rotazione da sud-ovest, mari mossi ma con moto ondoso in calo. Grazie. Grazie.